Grazie davvero di cuore gli amici di Viterbo, ci eravamo visti qualche giorno tardi, abbiamo fatto una chiacchierata, abbiamo fatto più del meno. Mi dispiace che non ci sia qualche amico storico, qui lo dico, perché era, era strano amico per me, per noi, anche perché è molto legale per lo scuro. Mi dispiace perché comunque ha avuto un ruolo attivo in questi anni in regione, ha avuto anche forse qualche soddisfazione da parte del nostro partito e avrei voluto che fosse qui anche lui oggi, magari candidato nelle nostre liste, come fanno questi giovani che così per servizio oggi, senza aver ottenuto nulla, ma solo per servizio, oggi fanno una battaglia, una battaglia a sostegno dell'Udc. In questa provincia. Io quello che voglio dire è che noi siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto in questi anni, siamo davvero orgogliosi di quello che abbiamo fatto e se l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto grazie ad amici come voi, come Braghetti, come Santucci, come te, come Giofi, come tanti, come tanti altri. Io non vedo, Giovan, anche a Senni, mi ha mandato un messagino, io mi ha impegnato, però buongiorno. Tanti amici che vedo fizzano. Nel 2008 noi facciamo quell'importante battaglia, battaglia coraggiosa, davvero piena però di grande entusiasmo, perché già qualche anno prima avevamo capito che la situazione dell'Italia era davvero una situazione drammatica che quel tipo di politica fatta da un sistema bipolare che portava più allo scontro che non alla risoluzione dei problemi della gente andava abbattuto, comunque denunciato quindi bisognava prendere distanze da quel sistema, noi l'abbiamo fatto con coraggio, grazie a voi abbiamo vinto con la battaglia vinto, io l'abbiamo vinto nel 2008 con quei due schierametti che ogni giorno si bombardavano abbiamo vinto la battaglia nel 2008 abbiamo difeso una bandiera abbiamo difeso con lo scudo crociato ancora una volta perché non ricordavo alcuno per noi dietro con lo scudo crociato c'è la difesa di valori importanti perché è vero che viviamo una situazione di crisi economica ma è soprattutto vero che non solo in Italia ma in Europa, in Occidente si vivono una profonda crisi valoriale allora difendere quello scudo crociato significa per noi difendere l'identità cristiana del nostro paese difendere la vita lo diceva prima Aldo così per sintetizzare il senso di un sanato perché è così per noi difendere, rimettere al centro della politica la questione famiglia che significa sostegno concreto alle famiglie e noi questo debbo dire siamo orgogliosi di averlo fatto anche in questa legislatura ad esempio nell'ultima legge di stabilità abbiamo fatto in modo che quelle risorse che erano destinate alla riduzione dell'IRPEF non andassero a tutti io ho spiegato a Crizzongiori il ministero, con lui, con tutto lo staff che dare a me una delazione a anno di 170 euro forse non serviva che era più utile magari darle 500, 700, 800 alle famiglie disagiate o alle famiglie che avevano più figli o alle famiglie che avevano più disagi in casa e così abbiamo fatto con queste mie parole si è convinto devo dire che siamo riusciti a cambiare allora rimettere al centro della politica anche alla questione famiglia da noi è un discorso in questo momento estremamente serio e noi diciamo anche con molta chiarezza quello tipo di modello di famiglia che noi difendiamo la famiglia è fatta da un uomo dalla donna fatta da figli rispettiamo e riteniamo che debbano essere riconosciuti i diritti anche alle colpe di fatto ma non andiamo a oltre la crisi sta andando a riconoscimento le coppie gay che vogliono essere riconosciute addirittura vogliono adottare dei figli per noi una cosa invalicabile che contrasteremo con forza non abbiamo fatto non contrasteremo ancora in futuro in Parlamento siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto in questi anni piccolo ma importante partito che ha determinato il cambiamento del nostro paese guardate che nel 2011 appena dopo l'estate io e il presidente Casini venivamo avvicinati da ambienti finanziari da chi guidava le istituzioni importanti del nostro paese la carità la ministra dell'economia e i ambasciatori che ci venivano a dire ma state capendo che la situazione normalmente non la abbiamo capito però datevi una mossa perché qua bisogna cambiare noi siamo riusciti a cambiare le sorti della politica italiana abbiamo mandato a casa qualcuno che ancora oggi continua con la politica delle promesse delle illusioni rispetto soprattutto a voi ai giorni che quando si dice che vuole creare 4 milioni di vostri lavori ma per forza sia c'era un governato negli ultimi 5 anni e la disoccupazione è cresciuta dall'8 al 13 per il 12 e mezzo e la disoccupazione giovanile è passata dal 19 al 34% oggi ma stia in silenzio allora noi siamo orgogliosi di aver fatto soprattutto in quel momento un servizio al paese cambiando le sorti della politica italiana e io vi ho detto una cosa guardate sono state fatte cose molto importanti che in quella situazione la politica non riuscì a fare cioè abbiamo fatto delle cose importantissime in questo anno la riforma del sistema previdenziale abbiamo messo a riparo il sistema della previdenza italiana garantendo a voi a noi ma anche a voi un sistema che può nei prossimi anni garantire la pensione perché la riforma che abbiamo fatto significa un risparmio di 140 milioni di euro nei prossimi anni quindi garantire il sistema di previdenza italiana così il tema delle liberalizzazioni che è stato fatto in maniera tipica noi l'avremmo voluto fare in maniera ancora più dura questa comportamentale nei prossimi anni non mettono i prodotti interno in quasi due punti nell'altro desiderio non è poco e così come è stata della spendita in Italia alle spese inutili e tanti altri provvedimenti poi che dire abbiamo chiesto agli italiani degli enormi sacrifici davvero e io quindi io non ringrazio molti dottori io solitamente ringrazio tutti gli italiani a cui abbiamo chiesto enormi sacrifici fatti in questo anno che hanno ridato non solo rimessi in ordine i conti italiani almeno in parte almeno in gran parte rimessi in ordine ma hanno ridato credibilità al nostro paese ve lo dice uno che è stato l'altra settimana anzi l'altro mercoledì non questo l'altra vicigianità a Bruxelles in un incontro del Partito Popolare Europeo è cambiata completamente il clima nei confronti dell'Italia io quando andavo un anno e mezzo fa ero riempito venivo riempito da battute o da eravamo considerati veramente la scenerentola in Europa l'altra settimana che ero lì all'incontro del Partito Popolare Europeo tra l'altro c'era anche Monti in giro che faceva poi in giro è cambiato completamente proprio lo sento è cambiato completamente l'invento ci considerano davvero ora un grande paese perché siamo stati gli autori di un miracolo in un anno siamo riusciti a riadrezare le sordi del nostro paese siamo riusciti a tornare al centro del ring in Europa basti vedere quello che è capitato un'altra settimana sul bilancio il bilancio è quello che ha riuscito a fare Monti ha buttato a casa tre miliardi e mezzo in più per l'Italia e guardate quello che ha fatto Monti rispetto a quello che è capitato negli ultimi quattro anni e mezzo ha fatto una muta ha riequilibrato la situazione perché negli ultimi quattro e mezzo sono state fatte cose sono stati spostati gli interessi dal centro-sud al nord notevoli interessi perché la lega ha condizionato completamente il lavoro fatto per l'Italia ecco porta a casa tre miliardi e mezzo di destino un miliardi e mezzo all'agricoltura del centro-sud 400 milioni per progetti per regioni del centro-sud per cercare di rilanciare l'area più depressa del paese l'area più bisognosa del paese questo è quello che allora io quello che dico siamo tornati al centro del ring in Europa peraltro la sera c'era la presentazione di un libro suo pensate davvero io ero presente sono stato invitato c'era una gente che pagava 3.000 persone che pagava 8 euro 9 euro per andare a sentire il mondo io ero impressionato non potevo crederci per andare a schiacciare ma quindi c'era un'attenzione nei confronti del presidente ma soprattutto anche un rispetto nel gruppo di parlamentare un rispetto nei confronti dell'Italia e dell'Italia notevo allora quello che io voglio dire non buttiamo nel cestino di sacrifici che avete fatto che abbiamo fatto per risanare e per rimettere in ordine il paese non ritorniamo al passato non ricominciamo con le solite litanie delle promesse posti di lavoro IMU da 26 tutto l'ufficio può stare a ritirare l'IMU che ne so poi i condoni di ogni genere sono tutte cose irrealizzabili irrealizzabili in questo momento allora bisogna andare avanti sulla strada della società sulla strada anche della concretezza cercando di portare avanti e fino in fondo il tema delle riforme a partire dalla riforma istituzionale sempre promesse da qualcuno ve lo dice chi è partecipato anche 18 anni fa sempre promesse e mai fatte la riforma istituzionale significa ridurre è inutile avere il Parlamento razionalizzare il sistema delle istituzioni chiarire esattamente poi i ruoli di quello che deve fare lo Stato c'è una gran confusione di quel che devono fare le regioni le province le vogliamo polire poliamo non stiamo lì a trovare via di mezzo oppure teniamole ma diciamo quello che devono fare le province così pure i comuni i piccoli comuni abbiamo fatto quello che è un grande disastro perché accorpare i piccoli comuni al di sotto dei miti abbinati allora c'è un bisogno di riordino delle istituzioni e questo lo si fa attraverso una riforma costituzionale seria quindi no e così come il tema quindi attaccato a questo è il tema della legge elettorale su cui io personalmente mi sono speso tantissimo negli ultimi sei mesi io pensavo di aver raggiunto il risultato facendo le elezioni tra Verdini e Miglialac che erano i corrispondenti del PD e della quando 15 giorni prima che si sciogliesse il Parlamento è sparito Verdini dal tavolo ho capito che la legge non si faceva più che il solito Berlusconi voleva tenersi questa legge per scegliersi di erogare ancora una volta e facendo regalo anche al PD perché noi avevamo messo una solida per avere il premio di maggioranza al 40% oggi Partito Democratico e Sè insieme che avranno un premio di maggioranza fino al 55% così pure altre riforme che vanno fatte perché semplificare anche burocratizzare il nostro paese è un altro tema molto importante la riforma della giustizia sempre non ce l'ha mai fatta soprattutto per la civile non è pensabile avere un paese in cui deve aspettare i geni per avere no allora continuiamo su questa strada non torniamo al passato non torniamo al passato ma per far questo ancora avere della gente credibile della gente che ha dimostrato nel corso di questi anni serietà responsabilità noi dobbiamo dire abbiamo fatto la nostra parte in questi anni in Parlamento con il nostro modo di fare un modo tranquillo sereno che vuole continuare ad esserlo anche nella prossima legislatura noi abbiamo fatto delle liste cercando di mettere la gente radicata sul territorio perché bisogna ripartire dal territorio dalla conoscenza dei problemi visto che non abbiamo portato a casa altre famze che abbiamo fatto nel Lazio 2 ci sto io che sto in 5 però abbiamo voluto mettere Aldo Forte che è stato assessore regionale tra l'altro i servizi sociali che conosce profondamente la regione i problemi di tutto il territorio abbiamo voluto mettere poi la Formisani che è fortemente radicata a Frosino subito Biggiotti che è fortemente radicato in questa provincia abbiamo fatto delle scelte di persone radicate sul territorio non abbiamo calato dall'alto come ho visto ieri ero in Carapia che ho messo lì quello piccolino che ha passato i cipoti che hanno lì cipoti l'abbindi gli hanno scaricato i 10 persone che hanno preso i cipoti da tutti i dati abbiamo messo tutti gli assessori nostri gente veramente radicata sul territorio abbiamo fatto delle scelte non avendo avuto la possibilità di inserire la presenza di gente radicata sul territorio allora io dico andiamo avanti e cerchiamo di non tornare indietro andiamo avanti sulla strada della serietà è un voto un po' complicato perché poi c'è Graziani che è il nostro uomo della regione noi siamo ben speranzosi ve lo dico se veramente mettetece la tutta perché stavolta l'onorevole buongiorno io stimo tantissimo perché è una signora di standing di un livello tale di una caratura morale non si è fatta piegare dalla Presidente della Commissione dei ricatti del PGL non ha accettato mai è andata avanti con un treno allora sarebbe anche gente di questo genere gente che rimette al centro anche la serietà la schiena dritta e io penso che sia possa essere davvero un grande Presidente della regione siccome i sondaggi danno la buongiorno una situazione molto positiva mi auguro che questa volta invece di stare nel ministero invece di avere un consigliere eletto Mirtino Viterbo abbia un consigliere eletto da voi penso che ci siano tutte le condizioni da leggere Graziani al consigliere avere un uomo nel consiglio regionale voi sapete quanto è importante significa portare i problemi di questo territorio all'interno di una delle ormai delle istituzioni più vicine perché i comuni poi dicono che si rapportano tante questioni che sono risolte dalle regioni che doveva solo leggerare la regione ma insomma che adesso gestisce tutta la regione non dire che ci questa è la verità allora io l'appello che vi faccio davvero è momento delicato lo schema di gioco non è più quello di una volta sinistra-destra con le grandi ammucchiate della sinistra-destra noi l'altra volta eravamo schiacciati ricordo ancora il presidente Berlusconi l'ultima notte della campagna elettorale io tornavo in foggia Skype per dire una telecamera non votate o dice un voto inutile vi toglierò l'isci le due cose che ti dice non votate o dice pensate ma che siamo stati utili in Parlamento in difesa dei valori che dicevo prima in Parlamento nel mandarlo a casa nel momento in cui c'è stato bisogno di mandarlo a casa perché stavo portando il paese di ormai ecco allora questa volta il vero voto utile è quello dato al centro se vogliamo la stabilità se vogliamo avere la situazione di stabilità nel nostro paese dobbiamo davvero e con forza e decisione davvero dare forza al centro perché è l'unica forza che può garantire la stabilità del paese può diciamo così dare una calmata ai massimi ministri a tutti a questa politica fatta di scontri continui allora ecco io vi chiedo davvero un impegno è una campagna difficile anche sul caso perché votare scudo crociato la canna può votarò scheda rosa quindi un colore che ci piace tantissimo il colore delle loro scheda rosa scheda rosa si vota Udc sapete che abbiamo fatto un'alleanza e che siamo gli autori perché senza quel simbolo non c'era molti non c'era molti presidenti senza quel simbolo non c'era almeno oggi la coalizione di centro di centro nel nostro paese allora in senato si vota lì dov'è il simbolo è lì mi sembra l'ho visto da qualche parte è lì no la nostra candidata con Monti per la prima scheda gialla con Monti per l'Italia non sbagliamoci perché votare lo scudo crociato significa ancora una volta riportare all'interno del Parlamento gente che ha fuori la difesa dei valori di valori importanti soprattutto gente che sa come far ripartire l'Italia perché il grande crucio nostro ve lo dico davvero perché quando ci parliamo di noi anche quando nel corso degli ultimi anni in Parlamento negli ultimi parlamentari abbiamo avuto in comune la grande sfida della politica è una sola noi dobbiamo restituire speranze i nostri figli cioè noi generazione la nostra mia generazione diciamo la mia di Braghetti va noi dobbiamo molto abbiamo avuto un periodo di grande fortuna io lo dico sempre io sono figlio di un maestro di un maestro di un magasino sei figli che ci hanno fatto studiare di formare laureare però poi io ho trovato anche il lavoro a tutti che non come voi che non come i miei figli siamo tutti in una situazione davvero un lavoro un fatto un impiegato un dirigente mezzegno poi siccome c'è un po' di mio padre che c'è un po' di problema pure il paroco mi spinge a fare il consiglio di comunale in un paesino nella provincia di Roma poi il consiglio di comunale a Roma poi il parlamentare europeo il parlamentare nazionale segretario in partita io non so se i nostri figli hanno le stesse nostre possibilità allora qual è la sfida non con le promesse che poi vengono cestinate 26 sera già vengono buttate in cestino o in qualche altra parte noi dal 26 sera dobbiamo dare una risposta ai nostri figli che possono vivere come è stato per noi in un paese democratico libero unito unito dico unito perché abbiamo fatto una battaglia contro la Lega siamo stati gli unici a fare una battaglia con orgoglio contro la Lega perché questo paese era a pezze altrimenti quindi in un paese unito e soprattutto in un paese dove abbiate possiate avere davvero un'opportunità di lavoro un'opportunità vostra in modo che siate liberi anche da tutto possiate veramente in tutti i settori possiate avere un'opportunità non solo vostra ma possiate così attraverso il contributo far tornare questo paese ad essere quel grande paese che è sempre stato allora questo è l'obiettivo principale della nostra azione politica fatta con compostezza senza urlare senza ma fatta con la serietà che si deve in questo momento agli italiani e soprattutto a voi giorni ecco questo è lo spirito della nostra campagna elettorale ma siccome la campagna elettorale come dicevo è una campagna elettorale difficile affido davvero davvero a ognuno di voi dirigenti e anche amici che siete qua presenti giovani che siete presenti questa campagna elettorale si fa con un metodo tradizionale come facevo io da ragazzino quando mi candidai consigliere comunale 24 anni andando a casa a casa a spiegare le ragioni del nostro partito che sono ragioni importanti e a spiegare anche la tecnicalità di come si vota se faremo questo il centro vincerà l'Udc avrà il suo solito successo anche perché noi svolgeremo sicuramente ruolo importante dopo l'elezione allora con questo io davvero ringrazio gli amici dirigenti vedo che c'è un bel clima di ericizia tra loro veramente sono molto contento che si sia creato un clima un clima di che ora era tutti un punto che possa dare nei giorni passati cerchiamo di essere uniti cerchiamo di lavorare in questi giorni perché ne vale la pena vale la pena grazie a voi ma soprattutto grazie a ognuno di voi e all'impegno che ci mette grazie a tutti